Donare mi dona. Non è importante quanto doniamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Dobbiamo provare un'emozione con dolcezza e devozione. Per me donare è come sognare, perché si dona molto amore che viene direttamente dall'amore. Un segno di maniabilità che genera molta felicità. Se doni un amore, le persone riempie il cuore. Se fai la taggione, la nostra scattoria, la nostalgia. Un dono è molto importante, insieme si vive e si condivide. Senza situazione si trova una grande emozione. Non è il dono, ma è un grande dono. Per me il dono è il perdono. C'è tanto amore quando una di una mi riscaldano il cuore. Il dono non è solo materiale, l'affetto è più di ogni altra cosa male. Vedere la felicità nei giochi di qualche mona è il dovere di un mondo. Donare agli altri amori è diventato e diventato. Donare è un gesto pieno d'affetto che proviene dal profondo del cuore e porta a felicitare le viti delle persone. Per me donare è un gesto pieno d'amore, diventato una persona migliore. È un gesto gentile per rendere ogni persona felice. Il dono è come il perdono. Un dosso d'amore che porta a buon humore. Gira a lei per la giornata come una dolce mamellata. Se un giorno ti donare qualcosa in te cambia la azione, è molto meglio come un dolce di dolce di dolce. Per me donare è come un sogno che si dirà a vegare. Per donare è molto amore e con pure impiegare il cuore. Il dono mi fa gioire e a tutti i padri di città. Donare è come abbracciare il cuore del versore che vuole regalare una grande emozione. Grazie.